Questo di oggi non lo so, oggi voglio vedere, ancora non ho visto risultati, potrebbe darsi anche di no, però è particolare. Parlerà in assemblea lei? Non lo so, ora devo vedere questo collega prima di tornare su un'assemblea. Si aspetta che una parte dei parlamentari stasera in assemblea dicano che così ce ne andiamo? Non lo so, ho sentito tanti malumori, però non ho parlato con molte persone, quindi non mi sembrerebbe corretto parlare per conto loro. Ritengo che tutto questo oggi sia senz'altro una copia di un partito. La cosa più grossa che ci si lamentava quando si parlava prima dei partiti è che si parlavano addosso e parlavano di loro stessi, si guardavano ai piedi fondamentalmente. Oggi stiamo facendo questo, ne più e ne meno. E non è una critica perché io voglio farmi vedere cosa, non è questo il punto. Il punto è che io oggi dico questo perché ieri sentendomi con le persone che erano lì davanti alla casa di Peppe Grillo, consiglieri e attivisti venuti da tutta la Toscana perché arrabbiati per quel tipo di scelta, gli ho chiesto a loro cosa fare perché il mio ruolo di portavoce vale anche nelle situazioni più critiche e quindi faremo insieme ai territori delle valutazioni di quello che è successo, tutti. Grazie.